ciao a tutti il mio nome rosita e vi do il benvenuto all'angolo del crimine la storia di oggi riguarda un caso ahimè irrisolto una giovane 19 anni che durante una pausa pranzo da lavoro improvvisamente scompare un mistero questo di cui ancora non sappiamo assolutamente nulla una famiglia distrutta da una tragedia e che cerca disperatamente la verità oggi vi parlo dell'intricatissimo caso di romina del gaudio romina ha 19 anni il giorno in cui scompare è una ragazza dallo sguardo vivace la battuta pronta e la voglia di divertirsi che hanno tutte le ragazze della sua età una ragazza come si dice a napoli con la cazzimma cioè una ragazza dal temperamento forte e che affronta le avversità della vita con piglio deciso romina nasce cresce a napoli nel quartiere arenella un quartiere confinante con il vomero lì conduce un'esistenza tutto sommato serena vive con la madre in un bel appartamento da dove si respira l'aria salmastra del mare e dove in estate il sole in radio di luce la casa a completare il tutto c'è francesco il suo fidanzato di cui è molto innamorata dopo il diploma romina non vuole più pesare sulla madre allora si arma di curricula che lascia vari negozi e invia tramite mail dopo qualche tempo a contattarla è un'agenzia che propone contratti telefonici porta a porta romina accetta anche se non ha esperienza e anche se non è il lavoro dei suoi sogni ma è spigliata alla parlantina veloce e poi è il meglio che offre il mercato nel 2004 il 4 giugno 2004 è una bella giornata a napoli romina si sveglia di buon mattino perché quel giorno è previsto un'uscita con i colleghi per proporre servizi telefonici ai negozianti di giuliano o almeno questo era quanto predisposto dai suoi colleghi la sera prima direzione giuliano quindi invece no perché senza un motivo apparente il capogruppo insieme ai colleghi decide di cambiare destinazione sarebbero andate ad aversa un cambiamento ininfluente nella vita di quei giovani promoter a caccia di clienti dopo tutto un posto valeva l'altro ma che invece cambierà le vite di tante persone in maniera indelebile quella mattina romina afferra il suo chiodo di pelle perché al mattino c'è ancora un po di fresco saluta per l'ultima volta la sua mamma la sua spalla la sua amica che distratta ricambia il saluto nessuno delle due può immaginare che quel saluto svelto sulla porta quel ciao mamma sarebbe stato anche l'ultimo il gruppo formato da due ragazzi e due ragazze si incontrano in un punto a napoli e insieme si dirigono ad aversa una volta lì intorno alle 10 e 30 vanno in un bar per fare colazione e per fare anche un breve briefing su come dividersi le zone il lavoro era semplice entrare nei negozi proporre ai negozianti un contratto telefonico che potesse risultare più conveniente un lavoro semplice è vero ma che richiedeva anche un pizzico di fortuna perché diciamolo si poteva trovare il cliente che aveva appena cambiato contratto oppure che si trova bene o che detestava i promoter e cacciava via i poveri malcapitati in malo modo oppure si potevano trovare persone disponibili e disposte a cambiare gestore telefonico lo sappiamo lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle poi ci sono gli indecisi e il venditore doveva sfoderare le sue tecniche affabulatorie e di persuasione per trasformare un'indecisione in una vendita romina lo abbiamo detto era alla sua prima esperienza era molto giovane ma anche tanto volenterosa e tanto caparbia quella mattina e 5 si dividono le vie da abbattere a tappeto a romina vengono assegnati i negozi che si trovano su via garibaldi via roma via andreozzi e piazza vittoria manuele terzo con la sua carpetta da lavoro inizia il suo giro e per tutta la mattina entra ed esce dai negozi è una giornata di magra e a metà mattinata non è ancora riuscita a far firmare un contratto poi guarda l'orologio è quasi ora di pranzo il piano della giornata prevedeva di ritrovarsi in piazza del municipio alle 13 30 per la pausa pranzo ma romina a quell'appuntamento non si presenterà mai e nessuno di loro la rivedrà mai più i colleghi che non la vedono arrivare si allarmano e iniziano a scriverle dei messaggi e a chiamarla cellulare che però squilla vuoto queste chiamate continue testimoniano una crescente preoccupazione da parte dei colleghi che però immaginavano si fosse attardata da un cliente ed era per questo che non rispondeva ma dopo mezz'ora il suo cellulare continuava a rimanere sordo alle continue chiamate alle 15 e 30 il cellulare di romina smise anche di squillare due ore di buca e un cellulare staccato erano un tempo sufficientemente lungo perché i colleghi capissero che romina non si sarebbe fatta viva decidono così di dividersi e di cercarla per tutta versa con il cuore in gola la cercano ovunque senza risultato fino a che intorno alle 19 e 30 stremati non decidono di tornare a napoli senza romina i quattro si incontrano con il titolare dell'azienda che prende la situazione in mano e si avvia verso l'abitazione dove romina viveva con la madre sperando in cuor suo di trovarla lì gli avrebbe fatto una lavata di capo perché non era accettabile che mollasse il lavoro in quel modo qualsiasi fosse il motivo ma sperava davvero fosse sano e salvo a casa e niente lo aveva preparato al fatto che romina a casa non ci fosse mai arrivata si ritrova così a dover comunicare alla madre che sua figlia era improvvisamente sparita a quel punto grazia la madre di romina si allarma e insieme ad alcuni parenti si mette in macchina in direzione aversa per cercarla è una ricerca disperata è un girare a vuoto che porta solo ansia e angoscia romina è ufficialmente scomparsa e quindi vengono allertate le forze dell'ordine e con grande delusione che grazia prende dai poliziotti che per loro si tratta di allontanamento volontario le dicono di aspettare di rimanere fiduciosa che romina si sarebbe fatta viva presto ma questo amici miei non succederà mai sono giorni di angoscia quelli per grazia e il resto dei familiari ma anche di frustrazione perché la polizia continuava a dire loro di aspettare ma aspettare cosa romina non si sarebbe mai allontanata senza dire niente alla madre non aveva che lei al mondo perché darle questo dispiacere no non era da romina romina non lo avrebbe mai fatto non a sua madre erano l'una la ragione di vita dell'altra romina e grazia avevano imparato a bastarsi da quando il compagno di grazia e padre di romina gennaro del gaudio li aveva lasciate per trasferirsi in germania quando romina aveva quattro anni gennaro del gaudio sarà un personaggio chiave in questo caso un uomo le cui vicende umane sono avvolte da una fitta nebbia gennaro quando viveva a napoli era un uomo che aveva sempre bazzicato nel campo della ristorazione preda dei cattivi investimenti e di strani magheggi che un giorno lo spinsero a mollare tutto e tutti prima per trasferirsi a londra e poi in germania dove si era subito circondato di figure in odore di camorra e ne parleremo il legame fra grazia e romina sole contro tutte era quindi fortissimo forgiato da anni e anni di solitudine come dirà grazia erano un anime un corpo passano 12 giorni e finalmente qualcosa si muove romina viene dichiarato ufficialmente scomparsa e si attivano le ricerche che interessano tutta la zona del casertano e dell'agroversano in particolare la vastissima zona dell'agroversano cercare romina infatti è un po come cercare un ago in un pagliaio e dopo giorni e giorni di ricerca le squadre di soccorso si arrendono nel frattempo gli inquirenti iniziano ad interrogare i negozianti di aversa che romina quella mattina aveva visitato durante il suo giro anche loro diranno che romina non sembrava molto serena era un po nervosa ma è anche vero che quella mattina romina non stava concludendo nulla non aveva chiuso nessun contratto e magari per questo non appariva al massimo della forma era un po giù aveva 19 anni dopo tutto ma non solo alcuni negozianti diranno di aver notato una figura maschile a girarsi nei paraggi della ragazza e i due dirà chi li aveva notati si conoscevano di certo perché ogni qual volta romina entrava in un negozio il tizio sembrava aspettarla poi romina usciva gli parlava brevemente e riprendeva a visitare altri negozi con lui sempre dietro che la seguiva nel frattempo i media vengono informati di questa improvvisa scomparsa e come sempre avviene in questi casi giornalisti vengono sguinzaiati per le strade a caccia di testimonianze utili e in effetti alcuni negozianti confermano ai giornalisti quanto detto in precedenza i poliziotti cioè di aver visto la giovane promoter in giro per il centro di aversa prima del luna ma non solo qualcuno giulerà anche di averla vista dopo luna l'orario in cui come da accordi avrebbe dovuto trovarsi a pranzo con i colleghi in particolare un gioielliere avrebbe detto di averla vista intorno alle 14 seduta su un marciapiede di piazza magenta con l'aria smarrita e triste tanto da ricordarsi di essersi domandato cosa mai ci facesse quella ragazza lì con quell'aria triste eppure romina non risponderà mai al cellulare né ai messaggi sempre intorno alle 14 una donna avrebbe notato una macchina seguire romina lungo la via andreozzi da quel momento nessuno più la rivedrà come se fosse sparita improvvisamente nel nulla emerge un altro fatto inquietante avvenuto appena il giorno prima un'altra ragazza anche lei promoter era stata la protagonista di un tentativo di rapimento in quel di parete un comune vicino a diversa due uomini sulla quarantina descritti come robusto uno e longilinio l'altro l'avevano intercettata per strada e tentato di infilarla in macchina una monovolume grigio chiaro la ragazza però era stata più svelta si era divincolata ed era corsa via terrorizzata una ragazza e non è un particolare da poco che somigliava in maniera impressionante a romina forse uno scambio di persona volevano in realtà rapire la povera romina per questo romina il giorno dopo scompare nel nulla queste sono le domande che grazie a gallo continua a farsi senza sosta lei ne è certa qualcuno aveva rapito la sua ragazza anche perché appena qualche giorno dopo la denuncia di scomparsa al telefono di casa gallo arriva una chiamata molto strana una voce maschile che chiedeva se e che tipo di medicina assumesse romina e che tipo di malattia avesse la voce anonima le intimava anche di non dire nulla alla polizia e di non osare rilasciare interviste grazie a quando mette giù e sconvolta e le sue convinzioni si fanno granitiche quelli erano i rapitori di romina e crede anche di sapere il perché di quel rapimento il suo ex compagno gennaro del gaudio come abbiamo visto legato agli ambienti malavitosi di lì a poco avrebbe dovuto testimoniare in germania per una maxitruffa di 150 milioni di euro un rapimento a scopo ritorsivo un avvertimento per il padre di romina della serie non osare parlare o facciamo del male a tua figlia inquirenti però che non escludevano nessuna ipotesi non erano convinti della pista della ritorsione le indagini si erano arenate immediatamente e il caso di romina del gaudio rischiava di finire come uno dei tanti casi di scomparsa di cui nessuno avrebbe mai saputo nulla e poi un giorno accade ciò che nessuno avrebbe mai voluto accadesse dopo 47 giorni il silenzio assordante attorno al caso di romina del gaudio viene interrotto da una chiamata anonima è il 21 luglio del 2004 e alla centrale dei carabinieri di santamaria capo a vetere arriva una segnalazione una voce anonima che segnala la presenza di resti umani in un boschetto del casertano precisamente a santamaro in località carditello un luogo noto anche per essere bivacco per drogati e senza tetto ma che per contrasto ospita anche un luogo di rara bellezza come la reggia di carditello di origine borbonica i carabinieri giungono sul posto si fanno spazio fra gli arbusti e i cespugli di erba alta e i rovi si inoltrano fino a scorgere qualcosa che non lascia molti dubbi la segnalazione si rivela ahimè vera lì composti in un perfetto scheletro ci sono dei resti ossei umani ma a chi appartengono quei resti a chiarirlo un tesserino di lavoro ritrovato nei pressi dello scheletro con sopra un nome un cognome e una foto inequivocabili romina del gaudio ogni speranza di ritrovarla viva cade in quell'istante ma come c'era finita lì romina e soprattutto come era morta fin dai primi rilievi per gli inquirenti non ci sono dubbi romina era stata uccisa da un esame esterno dei resti il medico legale stabilì che romina era stata colpita da un fendente alla schiena e da due colpi di pistola calibro 22 alla testa le ogive verranno ritrovate conficcate nel cranio nessuna traccia invece dei bossoli qualcuno si era proprio accanito sulla povera ragazza usando non una ma ben due armi per ucciderla con un modus operandi che sapeva di esecuzione l'assenza dei bossoli sulla scena del crimine però suggeriva due ipotesi la prima che l'assassino aveva usato una pistola a tamburo la seconda che romina non era stata uccisa al boschetto la presenza di tracce di sangue però fugava ogni dubbio romina era stata uccisa proprio lì e questa è l'unica certezza in un caso dove nulla certo in prossimità del corpo verranno anche ritrovato un reggiseno tranciato in due un paio di scarpe da ginnastica bianche un jeans una maglia girocollo nera un fermaio per capelli e un pacchetto di sigarette anche se romina non fumava e poi un chiodo di pelle nera lo stesso che la mattina del 4 giugno romina aveva indossato per affrontare il fresco del mattino un silenzio pietoso cane in quel boschetto di carditello adesso toccava dirlo a grazia la mamma di romina quando grazia viene raggiunta dalla notizia del ritrovamento del corpo della figlia la sua reazione è inaspettata e dirompente quei resti non sono di mia figlia e lo dice a gran voce grazia e ne è convinta e lo è sulla base di un fatto che non passa inosservato né a grazia né ai suoi legali i resti ossei sono in pessime condizioni come se fossero rimasti lì e non da 47 giorni al massimo se si dà per buono che sia stata uccisa il giorno stesso i periti della procura spiegano questo deterioramento dei resti sia per le temperature molto alte che accelerano i processi di decomposizione sia per la presenza nel boschetto di una fauna come roditori e volpi che avrebbero deteriorato al punto le ossa di romina da dare loro un aspetto incompatibile con una così breve esposizione ma non è solo quello grazie a quei poveri resti li aveva osservati a lungo e se da un lato razionalmente rifiutava che quel mucchio di ossa fosse ciò che le rimaneva di romina dall'altro lucidamente si rendeva conto di alcune anomalie ad esempio riteneva che la cassa esile grazie talmente convinta che quei resti non siano della figlia che arriva alla dolorosa decisione di non partecipare ai funerali di romina non voleva credere che lì dentro quella bara bianca ci fosse la sua adorata figlia al contrario alle esecue farà la sua apparizione gennario del gaudio papà di romina sparirà di scena subito dopo ma non dalle indagini come vedremo nel frattempo erano arrivati i risultati dei ris sul dna dei resti non ci potevano essere dubbi erano i resti di romina eppure nonostante gli esiti del dna non lasciassero spazio ai dubbi grazia continuava a negare che appartenessero alla figlia al punto che davanti alle telecamere dei giornalisti dirà spero che abbiano sbagliato il dna una non rassegnazione che rese se possibile questa storia ancora più penosa di quanto non lo fosse già era una donna piegata grazia perché la vita non le aveva mai regalato nulla e le aveva tolto il suo bene più prezioso fino all'ultimo dei suoi giorni grazia gallo viverà nella speranza di veder tornare la figlia una speranza vana ahimè ma la sua non è una negazione priva di fondamento grazia è una donna lucida e fa precise accuse per lei dietro quella tragedia c'era la mano dei clan dei casalesi i sovrani incontrastati del casertano strettamente legati a gennaro padre di romina e a quella truffa per cui era stato chiamato a testimoniare e le sue accuse si basano su alcuni retroscena che la donna rivela agli inquirenti come ad esempio il fatto che di tanto in tanto a napoli da casal di principe piombassero degli amici di gennaro del gaudio che portavano a romina del denaro per conto del padre gli inquirenti avevano in mano pochi elementi e fin troppe piste inoltre il pessimo stato delle ossa di romina non permetteva di datare con precisione la data della morte e questo ahimè era un dato che rendeva tutto maledettamente più complicato e ve lo anticipo sul piano delle investigazioni questo caso è stato un totale disastro gli inquirenti a fronte di un caso davvero complicato riprendono in mano il fascicolo e raccolgono tutte le piste anche quelle scartate in precedenza come quella della vendetta trasversale che avrebbe dovuto colpire il padre gennaro testimone in un processo per truffa ma è una pista che non porta a nulla e viene nuovamente abbandonata anche per un certo ostracismo da parte delle autorità giudiziarie tedesche che alle richieste del pm di poter accedere ai fascicoli dell'inchiesta e di perquisire il domicilio di gennaro del gaudio si sono visti letteralmente sbattere le porte in faccia quella era una strada senza uscita ed è frustrante pensare a grazia che per tutto il tempo e lo farà per sempre fino alla fine dei suoi giorni aveva spinto verso quella pista e vedere che si era ritrovata a scontrarsi contro il muro di gomma di chi non aveva voluto in alcun modo aiutare a dissipare i suoi dubbi dubbi concreti secondo i suoi legali viene anche seguita la pista del maniaco occasionale che avrebbe visto quel giorno romina avrebbe rapita forse violentata e uccisa anche in questo caso le condizioni d'era esti rendeva impossibile stabilire se la ragazza avesse subito violenza carnale l'unico elemento che faceva pensare agli inquirenti a quel tipo di scenario era la presenza del reggiseno di romina tagliato a metà ma non è tutto perché a qualche metro di distanza dal corpo straziato di romina venne anche ritrovato un perizoma ed è un mistero nel mistero perché dalle analisi dei fluidi organici ritrovati sulle mutandine inaspettatamente venne ritrovato un dna maschile e fu un colpo di scena clamoroso perché metteva tutto in discussione quelle mutandine erano o non erano di romina ad oggi questo è qualcosa di cui non sappiamo nulla un'altra pista poteva essere quella di un serial killer sì perché negli ultimi anni nel casertano vi erano stati diversi femminicidi tutti molto simili fra di loro chi aveva ucciso quelle donne aveva in qualche modo perpetrato un rituale una pista suggestiva che i giornali avevano provato a portare all'attenzione degli investigatori ma che venne totalmente esclusa dagli inquirenti rimaneva un'ultima pista quello dello stalker di romina sì perché scavando nella vita della giovane venne fuori un personaggio che fino a quel momento era rimasto nell'ombra un certo luciano agnino un vicino di casa di grazia romina che negli ultimi tempi aveva avuto delle attenzioni particolari verso la ragazza tutti alla renella sapevano che agnino era innamorato follemente di romina e sapevano anche che la ragazza non aveva mai ceduto al suo serrato corteggiamento che era molto innamorata di francesco e che aveva sempre respinto i suoi slanci amorosi romina era una ragazza dolcissima e empatica al punto che di fronte ai continui assalti dell'agnino a quel suo continuo intercettarla mentre usciva quel suo offrirle passaggi rispondeva sempre con calma con pacatezza non lo aggrediva non lo minacciava di chiamare la polizia lo respingeva sperando in cuor suo che il ragazzo se ne facesse una ragione e quando una volta romina esasperata da quell'uomo accettò un suo passaggio per la ragazza fu la fine perché per agnino fu la conferma che quel suo continuo assedio stava dando i suoi frutti che finalmente romina stava cedendo a lui e in qualche modo romina diventò la sua ossessione ma cosa spinse gli inquirenti a indagare quella pista il fatto che subito dopo la scomparsa di romina agnino aveva iniziato a telefonare insistentemente alla redazione di chi l'ha visto che si occupava del caso o con telefonate anonime o tramite il suo datore di lavoro dando delle segnalazioni molto circostanziate in una telefonata riferisce di aver visto romina nei pressi della stazione di caserta in compagnia di alcuni panca bestia che bazzicavano in quella zona mentre lui aspettava un treno che l'avrebbe portato a busto arsizio dove lavorava peccato che facendo un controllo anche abbastanza superficiale si scoprì che treni diretti a busto arsizio non ve ne fossero era chiaramente una segnalazione farlocca o peggio un depistaggio l'uomo viene convocato in caserma e l'agnino ammette di aver mentito senza però spiegare perché ma fa di più fornisce un alibi falso per il giorno della scomparsa agnino dice di essere stata a napoli quel giorno insieme ad un amico un certo fabio fiore questo fabio fiore raggiunto dalle telecamere di chi l'ha visto aggredisce in maniera estremamente violenta l'inviata della trasmissione arrivando a minacciare lei e la troupe da un lato minaccia di uccidere dall'altra si dice totalmente strano alla faccenda lui dice davanti alle telecamere non è uno che uccide le donne e io aggiungo che forse è vero che non le uccide ma di sicuro le minaccia su questo non ci sono dubbi quindi fabio fiore mette le mani avanti anche se in realtà fino a quel momento non era mai stato coinvolto nelle indagini nessuno l'aveva mai formalmente accusato di aver ucciso romina e era solo la persona con cui agnino diceva di essere stato quel giorno intervista si conclude poi con un'affermazione che lascia sgomenti onestamente io sono un esponente di sistema sono un mafioso se voglio vi faccio ammazzare agnino e l'amico fabio vengono formalmente indagati vengono sequestrati loro le auto e le armi ritrovate in casa tra l'altro si scopre che luciano fumava la stessa marca di sigarette ritrovata sul luogo del rinverimento ma era davvero troppo poco per formulare un'accusa però sempre agnino luciano molto prima che si scoprisse il corpo di romina ai inquirenti che lo stavano interrogando lo stavano pressando per quelle telefonate anonime e palesemente finte sentendosi praticamente sotto accusa scappò di dire una frase che lascia onestamente sgomenti e mi chiedo perché nessuno abbia indagato in tal senso stai a vedere che io l'ho data io la coltellata ribadiamo che in quel momento nessuno sapeva che romina fosse morta né che fosse stata coltellata quindi come faceva agnino a saperlo lui lì per lì tentò di diciamo tirarsi fuori dalla dall'impiccio dicendo che lo aveva detto così per ipotesi perché solitamente succede così le donne vengono prese coltellate vabbè però senza riscontri oggettivi i due escono dalle indagini per sempre e siamo nel 2009 2010 nel 2011 i resti di romina per volere della madre grazia vengono riesumati grazia sospettava che qualcuno avesse voluto far credere che quella fosse romina mentre invece secondo lei erano le ossa di qualche esponente dei casalesi talmente convinta che chiede appunto l'esumazione che però continua a dare lo stesso esito quelle sono le ossa di romina grazia però non se ne farà mai una ragione le piste nel frattempo si erano esaurite e non sembravano portare ad alcuna svolta ipm titolari dell'inchiesta per ben tre volte dal 2011 al 2017 chiedono l'archiviazione del caso e per tre volte i legali della famiglia di romina si opposero e chiesero ulteriori accertamenti riuscendo a tenere aperto il caso nel 2014 grazia la coraggiosa mamma di romina muore la donna se ne andò con la certezza che la sua romina fosse viva da qualche parte o forse con la speranza di ritrovarla in un altrove a continuare la sua battaglia il fratello di grazia ciro gallo che ha raccolto il testimone della sorella una sorella che in anni aveva visto letteralmente lacerarsi nell'attesa di romina di qualcosa che le desse un po di pace tutto tace per altri quattro anni con i legali di ciro gallo sempre in lotta con la procura di santa maria capo a vetere che vuole chiudere le indagini nel 2017 un nuovo jeep vuole vederci chiaro e respinge nuovamente l'archiviazione del caso e non solo invita iris a effettuare nuovi rilievi sugli indumenti di romina e riprende il fascicolo di una pista che la procura aveva abbandonato la pista dei casalesi in particolare studia le dichiarazioni di un ex affiliato ai casalesi riccardo di grazia che nel 2009 proprio in merito al caso di romina aveva tirato in ballo un certo ferdinando schiavo questo ferdinando il pomeriggio della scomparsa di romina aveva portato l'auto a lavare poiché aveva i pneumatici pieni di fango di grazia che era con lui riferisce che schiavo era particolarmente scrupoloso nel pulire il tappetino del lato passeggero e anche sotto il sedile passeggero troppo scrupoloso secondo di grazia ferdinando schiavo non solo conosceva bene romina ma i due avevano anche una frequentazione al punto che un altro affiliato al clan commentando la notizia del ritrovamento di romina avrebbe esclamato hanno ritrovato morta la ragazza che usciva con quel fulminato di ferdinando schiavo come a dire che la loro relazione fosse nota nell'ambiente ma indovinate amici anche questa pista non ebbe alcun esito positivo risultando completamente priva di fondamento al punto che i pm richiedono l'archiviazione del caso e il jeep questa volta consente ciro lo zio di romina assume un altro pool di difensori che nel 2018 fanno riaprire il caso cioè 14 anni dopo l'omicidio di romina qualcosa accade perché lo strano omicidio della 19enne viene collegato ad un altro omicidio quello di una giovane donna cinzia santulli trovata morta nel suo appartamento nel 1990 cinzia era stata ritrovata riversa nella sua camera da letto con il corpo straziato da 41 coltellata la schiena il suo è un classico delitto della porta chiusa nessun segno di frazione né di scasso all'apparenza i due casi però non sembravano avere molta attinenza però ad imprimere una svolta collegare i due casi ci pensa una lettera anonima giunta alla redazione di chi l'ha visto nel lontano 2011 chi aveva inviato la lettera era una certa anna probabilmente un uomo di fantasia la lettera è molto importante perché dà informazioni molto precise circostanziate la donna si diceva terrorizzata e per questo non voleva far sapere chi era in quella lettera la presunta anna dice di aver visto romina quel giorno il 4 giugno 2004 intorno alle 14 e 30 seduta su una panchina di piazza magenta sembrava preoccupata e intimorita da un uomo che da dentro un'auto grigio scura le intimava di salire a bordo sali in macchina ti do un passaggio le avrebbe detto l'uomo con una voce impastata come fosse sotto effetto di farmaci un altro uomo a poca distanza dall'auto intimava al guidatore di andare via perché la ragazza tanto non sarebbe salita e lui il guidatore stizzito avrebbe detto stai zitto papà aspetta ma non è tutto anna che capisce che c'è qualcosa che non va in quello scambio si segna la targa vi prego comunicate questa cosa alla giustizia in memoria di quella povera ragazza che sarei potuta essere io conclude la lettera chi l'ha visto ovviamente quando ricevette la lettera l'ha inoltrò immediatamente alla procura di santa maria capo vetere e volete sapere che fine fece quella lettera non si sa perché la procura non ha mai aperto alcuna indagine in merito una lettera che probabilmente non è mai entrata dentro il fascicolo di romina pensate questo caso quanti buchi neri ha sarà il timidi legali e periti di ciro gallo tirare fuori dall'oblio quella lettera nel 2018 e a loro si deve l'identificazione della targa ed è un'informazione importantissima perché quella targa corrisponde a quella dell'auto di un cittadino di aversa padre di due figli maschi di cui uno all'epoca dei fatti sulla quarantina proprio come indicato dall'anonima segnalatrice per i familiari è una lettera attendibile romina era stata costretta a salire sull'auto intimorita sì ma anche lontana dal credere che sarebbe finita in quel modo la lettera viene reinoltrata alla procura e quando si chiese conta la procura di quella mancata indagine nel lontano 2011 la procura alza le spalle la lettera fa riaprire le indagini ma soprattutto collega l'omicidio di romina a quello di cinzia santulli perché si dà il caso che il proprietario del veicolo sia il padre dell'unico indagato e successivamente imputato per l'omicidio di cinzia il suo nome ludovico santagati all'epoca dei fatti fidanzato di cinzia l'uomo però è stato assolto in tutti i tre gradi di giudizio per insufficienza di prove ma questo strano collegamento dell'uomo con ben due casi di omicidio fece presagire e fa presagire che non potesse essere solo una coincidenza ma anche quel nome e quello di altri tre indagati sono usciti fuori dal fascicolo di romina del gaudio e ad oggi ogni pista richiesta di indagini richiesta di analisi dei reperti alla luce delle nuove tecnologie ha dato sempre esito negativo sempre tanto che nel luglio del 2021 il caso è stato nuovamente archiviato ma Ciro Gallo non si arrende continua insistentemente insieme al suo team a cercare nuove prove per far riaprire il caso ci si chiede come sia possibile che con tutte queste piste non si sia mai riusciti a trovare un singolo riscontro come è possibile accettare che una famiglia faccia indagini parallele faccia indagini da sé che scopra lettere anonime dopo anni che la procura aveva sempre ignorato come è possibile che quegli slip con il dna maschile ritrovato a 150 metri da romina venga attribuita alla ragazza anche se lì non c'è il suo dna troppe anomalie come dico sempre una sciatteria investigativa spaventosa che ha trascinato una famiglia quella di romina nel baratro della disperazione è una storia che va oltre la mala giustizia va oltre l'umana comprensione dell'errore umano è una storia che fa male perché una madre è morta non sapendo chi le aveva tolto il suo bene più prezioso questo video lo dedico a lei a grazia lo dedico a romina lo dedico a tutte le donne che ancora aspettano che qualcuno renda loro giustizia lo dedico quindi a queste donne al loro coraggio e alla loro voglia di giustizia sperando che il caso di romina possa un giorno avere una soluzione e si conclude così il mio video ditemi che ne pensate ditemi soprattutto se conoscevate il caso di romina se avete informazioni questo caso che magari io non ho inserito nel video è un caso molto intricato è un caso che mi ha segnalato una mia iscritta francesca vi ringrazio di aver guardato il video non lo faccio mai non vi ringrazio mai abbastanza per i video che guardate per come sostenete il mio canale come sostenete me come persona e vi ringrazio molto volevo volevo farlo in questo in questa occasione se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di su iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video attivate la campanella trovate anche il form per consigliarmi i casi e a presto con una nuova storia crime ciao